Si chiama Ailema Faith e è una giovane donna straniera ovviamente, la quale pensate che, diciamo così, ha fatto sapere attraverso un video pubblicato sui social network che una cliente le ha detto di non volere aiuto da parte sua perché lei è una commessa di soli 18 anni di età, quindi vista la sua età troppo poco elevata, precoce, diciamo che non si vuole far servire da lei stessa. La ragazza in questione avrebbe detto, diciamo così, le ha risposto per le rime e le ha messe letteralmente nei guai. La tendenza ormai è sempre la stessa, sappiamo che quelli più giovani, se con di più non hanno esperienze, non riescono a trattare bene e quindi diciamo che non possono essere adeguati per dare aiuto e supporto in qualità di commessi o di commesse. Ovviamente Ailema è rimasta molto male, è rimasta piuttosto amareggiata a questo comportamento che sinceramente parlando non se lo aspettava per niente. E qua Ailema, non è una novità anche qui in Italia, infatti accade questo, molti ragazzi giovanissimi o ragazzi giovanissimi fanno i commessi e non vengono sfruttati per quel lavoro che svolgono perché vengono visti male per le tane e la pia che hanno. Grazie a tutti, invio e termine qua. Ciao Renato Ronaldo da Italiano.